Nasa Vita, Gladio Torlux e Ongaro che perde la fila, la seconda con Oceano e Kappa, Operao Oriente dei Sogni e Giano Caff. Partiti in questo momento, c'è lotta per il comando, ha sbagliato Ocean Fans, Nilo dell'Est scavalca quelli di dentro ma ha di fuori Nasa Vita che va per accodarsi. Lo scatto dell'allievo di Loris Ferro, Nasa Vita scende secondo in corda, 13,6 di primo paletto, Imarit terza di una lunga fila indiana che vede poi Nicchero e via via ancora Opera della seconda fila e tutti gli altri. E' andato in testa senza grandissima spesa Nilo dell'Est che transita il primo quarto di gara in netto rallentamento in 29,2, si sta formando una colonna esterna che però risale con molta gradualità. C'è sempre Nasa Vita nella scena del leader mentre di fuori viene il numero 6 di Gladio Torlux con il rimesso Ocean Fans e poi ancora Giano Caff si sono intruppati in fondo al gruppo, il 7 di Ongaro e l'8 di Oceano e Kappa che chiuso in corda sono preceduti soltanto da Oriente dei Sogni. L'allentamento netto per arrivare al secondo quarto, addirittura 33,2 per il cronometro di centrocampo, Nilo dell'Est in vantaggio davanti a Nasa Vita. Lloris Ferro sdraiato in sediolo del suo allievo che vuole andare, adesso è proprio in condizione quasi di pericolo, chilometro in 19 e adesso gli dà la via a 500 della fine. Nilo dell'Est è sempre una lunghezza davanti a Nasa Vita, cerca di riproporsi a Ocean Fans, si scontra con l'opposizione di Gladio Torlux, all'interno è sempre Vitale Oimari, sembra invece far fatica a Nicero, si va all'ultima curva con lo strappone 31,4 di Nilo dell'Est che è ancora in chiaro vantaggio, l'ingresso in rete d'arrivo su Nasa Vita che è richiesta, poi un po' in debito d'ossigeno nel tratto conclusivo. Nilo dell'Est, lo scatto di Oceano e Kappa che si butta per le corde. Nilo dell'Est chiude con un eccellente 28,6 e fa 1,15,6 per portare a casa la quinta corsa di Treviso. Andiamo a rivedere il replay della retta d'arrivo, qui siamo già sul traguardo. Nilo dell'Est e Loris Ferro per il training di Marco Fontanesi, il secondo posto lo mantiene nettamente Nasa Vita, per il terzo ancora in quota Oimari.